I danni dall'acqua alta di novembre alle opere pubbliche di Venezia sono stati quantificati in 320 milioni di euro. Lo ha detto il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro al termine di una riunione in prefettura in cui si è fatto il punto sulla conclusione del Mose. Manca il totale dei danni subiti dal privato perché c'è tempo di presentare richieste di rimborso fino al termine di gennaio. Di certo possiamo ipotizzare che si aggirino sui 70 milioni di euro. Per quanto riguarda un nuovo comitatone Brugnaro ha detto che non è stata ancora fissata la data. Intanto al termine dell'incontro ha lanciato un tweet in rete nel quale annuncia che tra pochi mesi il Mose sarà operativo per le emergenze. Sei mesi, poche parole, ma che letti da chi quell'emergenza l'ha vissuta porta speranze e voglia di andare avanti senza temere nuovi possibili disastri.